Salve sono Urbano della Sanio Moreno Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco Vetture Sate. Si tratta di questa bellissima Audi Q2 dell'anno 2019 principalmente e particolarmente è un 1.6 turbodiesel 116 cavalli. Andiamo adesso a vedere lo stato della carrozzeria esterna di questo bel grigio argento con rifiniture grigio scure. Come potete vedere la macchina è veramente eccellente. Sotto ogni profilo la guardiamo. Anche il pannellino laterale posteriore è di questo bel grigio argento più chiaro della carrozzeria per renderla al me ancora più filante. Andiamo adesso a vedere le particolarità della nostra auto partendo dal bagagliaio. Anche questo bello spazioso pulito. Sotto il nostro pannellino abbiamo anche il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura. Il pannellino del nostro bagagliaio ha la possibilità di essere anche messo più basso per avere più capienza nel vano bagagliaio. Passiamo anche adesso a vedere gli accessori che ha la nostra vettura. Partendo dai sensori di parcheggio posteriori, fari a led anteriori e luci anche diurne a led. Faro a led posteriore, cerchi in lega dal 17 pollici con gomme estive e in più abbiamo anche 4 gomme invernali già in dotazione. I quattro interruttori per i vetri elettrici e l'interruttore anche per la regolazione elettrica dei nostri specchietti esterni. All'interno della nostra vettura abbiamo il nostro display centrale, lo possiamo anche spengere, dove troviamo sia il suo navigatore sempre originale, il bluetooth del telefono che possiamo abbinare quindi per fare e ricevere le telefonate, il drive select dove possiamo modificare il nostro stile di guida, quindi modificare sia la centralina motore per il tiro motore sia la scatola di sterzo. Mentre in basso abbiamo il suo climatizzatore automatico, cambio manuale a 6 marce, console centrale dove troviamo tutti gli interruttori per le nostre regolazioni, volante multifunzione in pelle dove troviamo tutti gli interruttori per il nostro stereo. Abbiamo l'interruttore anche del comando vocale, sulla sinistra i comandi per la console centrale dove troviamo tutte tutte le nostre funzioni. Cruise control e adesso andiamo a vedere i nostri chilometri, solamente 53.900 chilometri. Tutti tagliandati Audi e infatti come vediamo l'ultimo tagliando è stato fatto a 48.458 chilometri nel mese di luglio 2021, quindi una macchina veramente veramente controllata e con pochi chilometri. E adesso andiamo a vedere anche la nostra tappezzeria. Anche questa molto bella, non ci sono strappi, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette anche perché il precedente proprietario non fumava, è stata come il nostro solito lavata, igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica e infatti il risultato è l'avere un interno vettura, una tappezzeria e quindi ripeto un'interno vettura veramente accogliente e pulito e anche il vano motore è molto bello da vedere, pulito con tutti i suoi componenti al loro posto a partire dalle plastiche, spinettine elettriche, tubini, naturalmente tutta controllata presso il nostro service Audi. Controllata come? Seguendo una nostra checklist multicontrollo e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi mi saranno spiegati al momento che deciderete di venire a vedere la vettura e a proposito della garanzia questa vettura è dotata della garanzia Audi prima scelta plus fino al mese di luglio 2024. Possibilità di pagamenti in ateali personalizzati che vi saranno spiegati in sede nel caso ce ne fosse bisogno e adesso salite in macchina insieme a me e andiamo a a fare un giro di prova su strada. Nel salire sulla nostra vettura la prima cosa che notiamo è quindi l'accoglienza e la pulizia del nostro abitacolo molto importante. A cosa serve il giro di prova su strada? Serve a capire il funzionamento generale della nostra auto. Partiamo da verificare ogni componente. Da questi primi metri io che sto guidando mi viene da sentire che la frizione è veramente ottima, bella, morbida, con uno stacco preciso e quindi trasmette ottime sensazioni anche al cambio che anche questo è molto morbido e preciso negli innesti. Assetto stradale eccellente perché la vettura va veramente dritta su strada e non ci sono assolutamente vibrazioni. Mentre la scatola di guida che in questo incrocio la dobbiamo girare parecchio la centro leggera, precisa, senza nessun tipo di gioco. Quindi sicurezza generale di guida su strada. Andiamo a verificare adesso le sospensioni nella strada con le classiche buche. Sentiamo sì il loro lavoro ma non sentiamo assolutamente nessun tipo di rumore all'interno della vettura quindi l'insonorizzazione generale è veramente ottima. Quindi una vettura tutta tutta da sfruttare, completamente funzionante perché l'abbiamo già controllata, quindi pronta per essere acquistata e guidata. Se poi volete sapere qualcosa in più di preciso e non potete in un primo momento venire personalmente perché abitate lontano, possiamo prendere un appuntamento telefonico e con una videochiamata in diretta vi spiegheremo totalmente la vettura in ogni suo singolo punto. Almeno quando deciderete di venire di persona la vettura la conoscete già. Basterà solo di dargli un'occhiata e tassativamente la prova su strada che è la cosa più importante di tutti. Passiamo ancora alla meccanica. Ottimo tiro motore con i suoi 116 cavalli abbinati al cambio manuale 6 marci. Quindi torno a dire una vettura completamente da sfruttare. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni. A questo punto vi invito a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social al nostro indirizzo sani moreno srl su facebook e instagram. Un grazie per l'attenzione. Vi invitiamo a venire presso il nostro punto vendita di Fuscecchio naturalmente in piena sicurezza oppure a telefonare ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura